Tutto pronto a Leonforte per la decima edizione del raduno cinofilo città di Leonforte Nistoria organizzato dal veterinario Alessio Scardiglio e dal signor Angelo Savoca, papà di Sebastian, giovane allevatore ennese di Sciba, venuto a mancare in un tragico incidente nel 2016. All'interno della manifestazione è inserito proprio il memorial dedicato a Savoca, grande appassionato cinofilo ed esperto del settore. L'evento, patrocinato dai comuni di Leonforte e Nistoria, quest'anno si svolgerà a Leonforte sabato 31 agosto dalle ore 16 presso la vecchia stazione in via Dalmazia. La manifestazione è aperta a tutte le razze e i meticci di età superiore ai 4 mesi regolarmente vaccinati, previsto come ogni anno l'arrivo di esemplari provenienti da tutta la Sicilia che saranno valutati da una giuria di qualità. Lo spirito del raduno, come precisano gli organizzatori, non è comunque solo quello di premiare il cane più bello, ma di trascorrere insieme una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, il ricordo di chi con passione vi si dedicava quotidianamente. Tra le novità di questa edizione è il concorso Baby Conduttore, dedicato a tutti i giovani proprietari di età inferiore ai 12 anni. C'è ancora tempo per le iscrizioni che sarà possibile effettuare presso l'ambulatorio Pet Center di Leonforte o chiamando il numero 333-1412-402. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato, previsti premi per le categorie Juniores, Giovani, Adulti e Medicci. Grazie. Grazie.